Come diricela, vicino ai figli miei, come sono figli, che sta a leggere un mondo molto per me, no? Quando, voi si vuole, sta a passare un figlio, che fa gente, o un mondo, o un mondo, tutte le leggi e tutte le leggi, o un mondo, che si difende tra la carta e il carretto. Domenico Soliano è l'avvocato, il carretto, filumeno naturalmente, che lo fa a leggere su un'età in sabore, perché a genere, Domenico Soliano, me la dice, ha le esprimiste, ma è la lacrime, ma è in dati gli occhi. E' senza cambiare un peric, lo che mi so ha assiù, o ma è le esprimiste, vuole. Ma è scelto il figlio, ma è scelto il figlio, e io sono firmato, ma tu pare che non ci ha parlato. Eh, hai già pensato a parlare, e me ne ha già visto niente, ma è fino a quando te ne hai riuscire a sentare, sì. Avvocato, e sapete chi li lascia, i bassi, a San Giovanni, a Edith, e Tribunale, o Palunetti. Niente, ha promocato, addo a stagione non so di spirito, perché poca loro è rastati, e a piedi lo figlio, a sbattere i piedi, a dove non c'è sta solo mano a mezzogiorno. Eh, avvocato, io parlo una buonetà, scusate, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Avvocato, scusate, io parlo una buonetà, non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Devi cambiare registro, perché mentre fai il racconto all'avvocato in maniera ufficiale, poi torni sul tuo vissuto drammatico. Capito? Adesso non c'è stato solo mano a mezzogiorno. Eh, però, prima... Avvocato, scusate, provate una buonetà, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Eh, non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Chi ne è il genio? Adesso non c'è luce. Adesso non c'è luce. Adesso non c'è luce. Non c'è luce. C'è luce a mezzogiorno. Quanti erano? Forse. Io a mezzogiorno non mi ricordo che fino a casa non lo voglio sapere. Mi ricordo sempre tutto quello con l'altra, sempre che faccio salutare. C'è luce senza di buonanotte, c'è luce senza di buonanotte. C'è luce senza di buonanotte, c'è luce senza di buon giorno, un vocale, pure che non c'è luce. Metticelo. Una parola, buona, mi ricordo una ricetta fatica. E quanto mi ricordo? E uno può trattare. Teneva trinici anni. Per ricetta. Per ricetta. Per ricetta. Tu stai facendo la nostra, eh? E calma, ci stai capagnando. Stai. E o palo. O palo. All'altro, ogni studio lavorato molto buonanotte per il studio. Ah sì. C'è lucema tutta attorno a tavola. Un piatto di buonanotte. E non sa c'è quanta forchetta. Forse non ero vera, ma ogni volta metteva la forchetta di due piatto. Ma se ne le guardava, ma pareva come se le mani stavano rubate di mangiare. Per fare, entre. Tenevissi assettare. Allora aspettiamo. Abbiamo eseguiti della situazione di me. Che bello scherzo. E lei guarda. Abbiamo sulle braccia di me senza. Adesso è uno tra i cani trani e non ho scelto. Se non ci sono visto tanto, e non ho visto tanto proprio. A forza, io. Ma pare molto buono. mi scelte così, 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 durmette tutta la notte, e ho valuto, ho valuto, e poi mi scelte a te, chiamate quelli, la stella dal porto, che è la casa, farò una regge, tornavo una sera, uomo che sarò i copi, ho corso il giudicato, il serato, forse non mi guardo la casa tragoci, ma mi torna e ola porta, nessuno mi disse niente, ma chi mi portava il serto, che mi ha carezzato e mi guardavo come una superiore all'ordine che da soluzione sulle mamma quando hai la santa, ieri, 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 a casa non c'è tutto mai più, nulla giacissi e finiti.